Ciao amici di Passione Italiana, bentornati a un altro Correggi l'errore con Passione Italiana e con me Alex. Allora vi dirò tre frasi, ognuna contiene un errore e poi alla fine vediamo le correzioni insieme. Siete pronti? Frase numero uno. Mi piacciono molto le tue scarpe verde. Numero due. Signora, la piace questa camicia? Numero tre. La casa di Pietro è molto bella. Allora, vediamo. Mi piacciono molto le tue scarpe verdi, perché è femminile plurale. Verde è singolare, scarpe è plurale. Signora, le piace questa camicia? No, la piace. Oggetto, complemento oggetto indiretto. E la casa di Pietro è molto bella. Molto in questo caso è avverbio. Non aggettivo. Alla prossima, ciao!